Oggi vi porto alla scoperta di un grande luogo del passato, l'ufficio. Pensate, un tempo per lavorare bisognava uscire di casa. Qui, infatti, venivano sacrificate intere vite umane in cambio di soldi. Ma l'ordine, per entrare, bisognava passare il badge, un antico rito liturgico che, se fatto al mattino, ti trasformava in schiavo, mentre se fatto al tramonto, tornavi ad essere libero ma reperibile. E questa era la scrivania, l'altare al quale il dipendente veniva incatenato dalle rate del mutuo. Sopra alla scrivania l'impiegato lavorava, mangiava, spesso dormiva e infine moriva, sommerso da una pioggia di e-mail. Resta invece un mistero. Cosa avvisse sotto alle scrivanie? Secondo alcuni storici, si tenevano dei riti priapeschi, chiamati straordinari. Se questi erano fra colleghi, si chiamavano relazioni extraconiugali. Se invece coinvolgevano un superiore, si chiamavano aumento o promozione. E questo è il fossile di un raro esemplare di dipendente donna che lavorò in quella mezzaluna fertile che va dalla laurea alla gravidanza, evento, che ne determinò il licenziamento. Pensate, essa riusciva a sopravvivere in questo ambiente, nonostante le molestie, le poche chance di fare carriera e lo stipendio nettamente inferiore a quello dei colleghi maschi. Qui la vedete alle prese con le fotocopie, un incarico prestigioso all'altezza dei suoi due master in economia. E qui è dove si tenevano le riunioni, simili alle videoconference su Zoom, ma vestiti anche sotto. Durante le riunioni avveniva il prodigio, lo spirito aziendale, dava a tutti i partecipanti il dono delle lingue e si usavano termini quale schillato, briefare, core business, first reaction shock. Ai vertici delle riunioni sedeva il capo ufficio, una sorta di semidio, metà uomo, metà stronzo. Quando negli uffici faceva visita alla finanza, il capo, come un faraone, veniva seppellito assieme ai bilanci e ai libri contabili. Purtroppo gli uffici si estinsero a causa di una pandemia di smart working o per effetto della grande disoccupazione. Ma ancora oggi, nelle nostre vene, scorre il caffè che i nostri antenati venivano a prendere qui, alla sacra fonte. Un rito chiamato pausa che oggi non esiste più.